Taranto, piazza Garibaldi, lato via Cavour. Lo scempio è stato compiuto. Come tutti sapete qui c'erano dei bellissimi alberi, dei bellissimi pini. Certo erano pini che creavano problemi perché con le radici sollevavano i mattoni, sollevavano la pavimentazione. Ma la scelta infelice e a mio avviso vergognosa è stata quella di risolvere il problema abbattendo, sradicando gli alberi per rifare la pavimentazione, come vedete. E allora signori, è giusto che il cittadino cammini e non corra il rischio di cadere, ma è altrettanto giusto che gli alberi continuino a vivere, cosa che purtroppo non è accaduta. Si doveva trovare un altro sistema, un altro rimedio, una variazione, ora non sono un tecnico della materia, però una variazione per far sì che gli alberi rimanessero e la pavimentazione fosse, come dire, uniforme o deve evitare appunto ai passanti di inciampare, di cadere. Ma è un peccato, è veramente un qualcosa che fa soffrire. Mi sembra un delitto abbattere un albero, sradicare un albero, alberi secolari che hanno accompagnato la nostra vita, la nostra esistenza e ora li vediamo così portati via per lasciare lo spazio al cemento, che non avvenga più una cosa del genere. Mi rivolgo all'amministrazione comunale, gli alberi, la vita valgono più di ogni altra cosa. E sradicare un albero, per me, significa uccidere una vita.